Cari amici di Teletermini, siamo come ogni anno a sbirciare i carri allegorici che sono il clou, la cosa più importante del nostro carnevale termitano e siamo venuti proprio in questa serata a trovare l'assessore al turismo e quindi a questa manifestazione Cecchietti. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. E allora, un carnevale che ritorna all'amministrazione comunale, che si sta occupando di tutti gli aspetti di questo carnevale così come si faceva tanti anni fa e sta ritrovando davvero con le risorse che sappiamo essere sempre limitatissime, le varie spending review eccetera eccetera, davvero ricco di avvenimenti comunque. Tre sfilate dei carri. Raccontaci un po' come sarà il carnevale 2015. Eh sì, quest'anno giorno 8 febbraio daremo inizio al carnevale più antico di Sicilia. Quest'anno la kermesse è organizzata totalmente al comune di Teletermini-Merese, all'assessorato al turismo, allo sport e allo spettacolo. Avremo tre sfilate dei carri allegorici, domenica 8, domenica 15 e martedì 17 febbraio. Sarà altrettanto ricco il palinsesto musicale, cabaret con tutti gli artisti siciliani. Infatti la originalità di quest'anno è un carnevale made in Sicilia. Sul palco saliranno artisti locali, artisti siciliani. Partiremo domenica 8 con i Tinturia che apriranno, rialzeranno il sipario del carnevale. Proseguiremo domenica 15 con i Soldi Spicci e chiuderemo martedì 17 con i Luna Rossa. E quindi insomma un gradito ritorno per la nostra città con i Tinturia che insomma oltretutto sono stati protagonisti anche con le loro canzoni dell'ultimo film di Ficarre Piccone, nonché del primo di esordio dei due comici siciliani. E poi il cabaret dei Soldi Spicci. Molte si chiedono, o alcuni comunque, si sono chiesti chi siano questi Soldi Spicci. Io li seguo su Facebook e sono un gruppo, un duo di comici palermitani davvero emergenti. In questo carnevale abbiamo voluto coniugare artisti siciliani già fermati appunto della ribalta nazionale come i Tinturia, ma abbiamo voluto dare anche spazio a chi sta emergendo. Il duo comico palermitano appunto dei Soldi Spicci è un po' la rivelazione nel palinzesto del cabaret in Sicilia. Li abbiamo invitati e hanno accettato l'invito. Avremo anche la diretta sui carri, tornerà quest'anno la diretta sui carri condotta da Vincenzo Cannenzone, domenica 15 nel circuito classico di Termini Bassa. Un altro appuntamento è la Sala di Maccarroni in Tamaida, organizzata annualmente dall'Associazione Termini da Muri. Quest'anno è stato fatto anche un protocollo di intesa tra l'ordine dei chimici, l'ordine dei medici, la lega ambiente per la riscoperta dei grani antichi siciliani. E si terrà anche un convegno, il benessere nella tradizione, che si terrà mercoledì 11 al liceo scientifico Niccolò Palmeri. Sono state coinvolte in questo carnevale moltissime associazioni locali, appunto oltre Termini da Muri, anche la Pro Termini, che coordinerà i gruppi mascherati, la società del carnevale. E' un carnevale gestito, organizzato, con poche risorse, ma abbiamo tentato di fare nel migliore dei modi. Ci sarà, leggo anche uno spettacolo, Zibaldone musicale, che sarà al Ticine Teatro Eden, sempre mercoledì 11 alle 21, e poi naturalmente ci saranno i giri dei Nanno Guananna nelle scuole, come tradizione, e poi ancora, insomma, la gran chiusura, come per tradizione, appunto, martedì 17, con la premiazione dei carri, la lettura del testamento, è sempre a cura del notaio Mezzapinna, tutto presentato ancora nel Genzo Canzone, non in diretta televisiva, televisiva, diciamo, satellitare, ma con la nostra diretta di Teletermini, che sarà sempre presente sia domenica, sia domenica 8, che domenica 15, che martedì 17, quindi collegatevi al nostro sito www.teletermini.it, e ci sarà la diretta di tutti gli eventi che legano questo carnevale 2015. Bene, allora, in bocca al lupo, poi trarrevo le conclusioni, sono sicuro che il carnevale organizzato dal comune sarà sicuramente un successo per quei pochi fondi, oltretutto, che sono impiegati. Ci dobbiamo augurare, innanzitutto, il bel tempo che ci permetta di fare la manifestazione, anche per dare spazio ai maestri cartapestai, che in poche settimane hanno realizzato strutture, carri alla lettezza e alla migliore tradizione termitana. E allora, cominciamo la nostra carrellata dei carri in gara quest'anno, questo 2015, con Mario Giuca. Buonasera Mario. Buonasera. Allora, innanzitutto, raccontaci il tuo carro. Eh, il carro. Come ogni anno, tento di fare un carro che sia in linea con i tempi. Quest'anno ho fatto un carro sui problemi che abbiamo qua a Termini. Infatti è una barca che sta per affondare e c'è sopra un pirata che rappresenterebbe il sindaco che tenta di salvarlo. Poi ci sono delle persone su dei barili che tentano di scappare, che si sono già fregati tutti i soldi, però ovviamente non ho messo faccia di nessuno, perché non vorrei che qualcuno se la prenda a male la cosa. E niente, poi abbiamo, come potete qua vedere, una sirena che rappresenta i problemi di Termini che ormai si sono asciugati. E la sirena viene inseguita da due murene che sono le banche e le tasse, che tentano di distruggerla completamente, di sporparla viva. Poi tanti pesciolini che rappresentano i nostri cittadini, che ormai tentano di scappare dal nostro mare per andare verso acque più sicure. Insomma, si boccheggia, dai, si boccheggia. Quest'anno come siamo messi? Insomma, l'organizzazione del comune, che ne pensi? È positiva secondo te il fatto che si stia occupando di tutto il comune come si faceva una volta? Oppure è meglio feedback? Allora, da parte nostra già è un paio di anni che si occupa il comune, perciò non vedo cambiamenti. Ora vedremo quando si iniziano le sfilate quello che succede dopo, però posso dire che finora è stato come gli altri anni, negli ultimi tre anni, diciamo. Per quanto riguarda la, fra virgolette, gratificazione, ovvero la realizzazione di questi carichi che ha sempre dei costi, è sempre maggiore, ogni anno, fra ferro e varie... Che vado ad aumentare continuamente. La manodopera lasciamo la perdere perché fate tutto... No, io non li pago, li schiavi. Fate tutto a volontariato. No, sono schiavi, li frusto. Insomma, con la gioia del carnevale si fa tutto gratis. Sì, infatti. Però, insomma, il materiale è sempre più costoso. Sempre più costoso. Come fate a affronteggiare queste spese? I budget, mi sa, che sono sempre gli stessi? No, i budget negli ultimi anni non sono cambiati. Dovrebbero aumentare, ma non sono cambiati. Come facciamo? Che usciamo soldi di tasca nostra e paghiamo quello che possiamo pagare. Quello che ci può aiutare, tipo le grandi aziende, le ditte, ci aiutano. Quindi c'è un ritorno, c'è la possibilità di rimettere la pubblicità, c'è di nuovo quest'anno? Sì, abbiamo la possibilità di rimettere la pubblicità, anche se con i tempi che corrono nessuno vuole fare gli sponsor e ci sono pochissime persone che li fanno. Insomma, ma allora te la faccio ogni anno la domanda a te come agli altri. Perché fai i carri di carnevale? È difficile da spiegare, perché è tipo una passione, una voglia di fare qualcosa per la propria città e soprattutto per le persone che poi salgono sul carro, è una gioia vedere delle persone che guardano la tua opera e dicono quest'anno hai fatto un bel carro e per precisare l'abbiamo fatto in pochissimi giorni perché in tre settimane circa, non di più, sì, pochissimo quest'anno. Si vince? Eh, questo non lo devi dire a me. Ritorna la vittoria in casa gioca? Io la stellina già ce l'ho, perciò è un problemino mio, sono arrivato a dieci, perciò la stellina l'ho presa. In bocca al lupo. In squadre di calcio. In bocca al lupo. Grazie, credo. E allora cari amici teletermini continuiamo il nostro giro, siamo con il dottore Sansone che ci racconta il suo carro, tema piratesco a quanto possiamo vedere. Sì, quest'anno il re carnevale abbiamo affrontato il tema del pirata che arriva a Termini Merese vestito da pirata, i pesci piragna che servono sono il male e il nanno viene a sconfiggere il male a Termini Merese. Quindi c'è il nanno che è il nostro pirata, diciamo, con la nanna e c'è ancora una volta il nostro notaio Mezzapinna che ormai è diventato simbolo del carnevale termitano. Simbolo storico del carnevale c'è da dire, nando, che ogni anno redige tutte le sorti della città nel suo famoso testamento. Esattamente. Un carro, anche questo, totalmente nuovo, come vuole. Nuovo, ma la figura è sempre quella del re carnevale. Ci sono anni che l'amministrazione decide di metterlo a concorso e anni che lo mette fuori concorso. In teoria questo sarebbe un carro da mettere fuori concorso, però visto i fondi cercano di metterlo pure a concorso e uno cerca di fare del suo meglio per renderlo grazioso. Anche voi, naturalmente, tanta passione, tanto amore per questo carnevale, ma pochi fondi per la fine. Non tanto pochi fondi, poco tempo, diciamo. Poco tempo perché quest'anno abbiamo realizzato questo carro in 20 giorni. Quindi miracoli non se ne possono fare in 20 giorni. Ma come mai in tre settimane, ogni volta, questa storia che si ripete, poco tempo, i capanoni sono a disposizione? Sì, però purtroppo il bando di concorso esce tardi, quindi il tempo che approvano il bando e quindi poi quest'anno siamo arrivati proprio agli sgoccioli. Quindi abbiamo cercato di fare del nostro meglio e salvaguardare sempre la tradizione, che comunque io ci tengo, che la tradizione vada sempre avanti e il carnevale si faccia. Anche perché il carnevale termitano è carri. È carri ed è l'unica manifestazione a termini che ancora porta persone e turismo. Assolutamente sì. E allora in bocca al lupo, visto che è al concorso, buon carnevale. Grazie, grazie. Per questo carro non ci sono i protagonisti che sono andati via poco fa, però insomma non ce l'abbiamo fatta intervistarli. È il carro del Mancia Mancia del gruppo Lopresti Rosella. Come potete vedere è un maiale gigantesco, insomma con dei richiami futuristici, possiamo dire così. E concludiamo questa carrellata dei carri. Sono cinque i carri in totale, quattro in gara, più il carro del Nanno con la Nanna, che è quello con i cavalli che abbiamo visto poc'anzi. Questo è l'ultimo dei carri di questa giornata, di questa carrellata. È il carro di Abruscata e Piscitello. Anche loro non ci sono, sono andati via perché insomma poi alla fine, come vedete, insomma il grosso è stato fatto. Nonostante abbiamo avuto solo tre settimane di tempo per realizzare i carri e hanno realizzato tutto nel più breve tempo possibile. Magari effettivamente abbiamo notato, non curando i particolari al meglio, però per imbastire un carnevale insomma alla meno peggio. Questo carro, ci hanno spiegato prima di andare via, dico che stiamo andando via perché è ora di cena, è un auspicio per la nostra città perché dalle pietre che sono rappresentate qui in basso nascono i fiori, è un prato rigoglioso, ricco di personaggi che popolano il prato e quindi di api e di altri insetti vari con i fiori e poi ci sono anche dei personaggi diciamo da favola, della favola, proprio per dare un po' di gioia ai nostri bambini. Questo è il tutto dai capannoni semi abbandonati del carnevale termitano. Un grosso saluto a tutti e buon carnevale a tutti.